La professoressa Franca Melfi, docente di chirurgia toracica dell'Università di Pisa, dove era anche direttrice del centro di chirurgia robotica dell'azienda ospedaliera della città, ha sciolto la riserva e ha accettato di trasferirsi all'Università della Calabria e operare nell'ospedale di Cosenza. E quanto comunica il rettore dell'Unical, Nicola Leone, che parla di un altro colpo grosso messo a segno dell'Università della Calabria con il meccanismo delle call, destinate a professionisti interessati a ricoprire il ruolo di professore universitario in area medica. L'Unical ha pubblicato il bando per l'assegnazione di un posto di professore universitario in chirurgia toracica. Alla fine delle procedure è stata selezionata una specialista d'eccezione, che oltre a insegnare nel corso di laurea in medicina dell'Unical, opererà presso l'ospedale dell'Annunziata. Un cervello di ritorno, viste le sue origini calabresi, riporta ancora la nota. Per me è un'importante sfida, ha dichiarato la professoressa Melfi, ma è anche un modo di restituire qualcosa alla mia terra. Sono felice e orgoglioso, afferma il rettore Leone, che una specialista del calibro della professoressa Melfi abbia colto la nostra proposta di trasferirsi all'Università della Calabria e operare all'ospedale di Cosenza.